Ciao a tutti ed è qui in questa nuova puntata di RockPolitik. In questi ultimi giorni il dibattito pubblico e l'opinione pubblica si è spaccata e si è divisa su un tema molto importante e delicato allo stesso tempo. Negli ultimi giorni e settimane il governo ha emesso una lista di alcune località italiane che sarebbero predisposte e che rientrano nei parametri per ospitare il nuovo deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. In questa lista sono presenti anche alcune località canavesane come Caluso, Mazzè e Rodissone ed è qui che si è infiammato il dibattito pubblico nelle nostre terre. Questo perché? Perché queste terre, le terre di Caluso, le terre del canavese, ospitano la casa di alcuni dei prodotti che rendono la nostra regione tra le più ricche dal punto di vista del nuovo gastronomico e culinario. Un esempio tra tutti è la Baluce di Caluso. Il dibattito si sta allungando nei tempi e soprattutto ci sono molte critiche al governo per aver messo una lista del genere in un momento come questo, dove l'opinione pubblica è concentrata su altre tematiche come quella del coronavirus e la crisi del governo. E quindi non riesce a dare la giusta considerazione a una tematica del genere che rimane comunque molto complessa. Il SOGIN, l'internazionale incaricato per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, di medicina nucleare, degli ospedali e dei centri di ricerca, sta facendo pressione. Sta facendo pressione come? Però in modo deliberativo. Ossia si discute, si fanno comparazioni con altri paesi. Un esempio citato in questi ultimi giorni è stato quello di una regione francese, che è quella dello Champagne, la regione che dà al mondo uno dei vini, anzi il vino più prestigioso in tutto il mondo. Però questa comparazione secondo me non ha molto senso. Questo perché? Perché la Francia rispetto all'Italia produce molti più rifiuti radioattivi, avendo appunto molti impianti nucleari rispetto all'Italia che non ne ha, rispetto anche solo alla Spagna. E soprattutto anche per un'altra caratteristica, la densità abitativa. Nella regione dello Champagne la densità abitativa è molto bassa, in quella del Canavese è molto molto alta. Un'altra problematica è quella che nella lista sono stati inseriti comuni, che si sono opposti con grande voracità alla costruzione dell'impianto. Mentre ci sono altri che ritengono che le proprie terre rientrino nei parametri emessi dal governo, che non sono ancora del tutto limpidi, e quindi stanno cercando di autocandidarsi per ospitare il deposito. Non si sa ancora come andrà a finire la storia, la storia sarà molto lunga, ci sarà ancora un forte dibattito, sarà portato sicuramente nei media e nelle aree parlamentari adeguate. Sicuramente si giuggerà un compromesso. Questo perché oltre alle tematiche ambientali ci sono da considerare molte altre tematiche, soprattutto quelle economiche, soprattutto l'indotto che viene portato da una costruzione del genere, a un impianto del genere, soprattutto perché anche ci sarebbero molti posti di lavoro che questo impianto, questo deposito, porterebbe nelle nostre aree e nella regione Piemonte. Grazie a tutti per l'attenzione, aspetto i vostri commenti, ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik.